ma come compagai chi? ma lo accortai insieme al si fa il meffiola beh che dupali non capis mica chi? chi che è scritto qui? Franco e Luisella per sempre insieme a me questo paese è proprio una vera una vera sfortuna che il mio ragazzo mi fiole a voi sposare come vuoi dire? Franco è un mio ragazzo e a voi ben bombe però mi fiole la grande difetta la nemica buona è vera io non ho lei ma no per l'amor del signor non si parla neanche non so ne ho cosa dire per piacere no la Luisella ormai la cambia mica più idea ma vuoi mica che fai la fe che ho fatto di me cosa puoi fare? signor Gandolfi tagliare la corda che lavoro e adesso in Dovagia non ti hanno bombe qua tutto che fai e poi se te la vedi in giro anche se te la vedi in giro metti fuori dove e e le regaida grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti